Sono Enrico D'Andea, studio alla Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Salerno e oggi volevo raccontare la storia di Aldo Moro, principalmente del suo ravimento e della sua uccisione tramite il rapporto che ho con mio padre. Mio padre si chiama Lorenzo D'Andrea, ad oggi fa l'autista di Camion e lui è nato nel 1960, per cui durante il rapimento Moro, ovvero nel 1978, lui aveva 18 anni. Lui è abbastanza un appassionato di politica e spesso da quando io ho cominciato l'università e quindi mi sono affacciato anche io con una grande saperezza diversa al mondo della storia, i nostri discorsi a tavola spesso trattano di storia italiana e di queste tematiche qui. Essendo molto appassionato di politica ci confrontavamo spesso su ciò che leggevo io sui libri, lo confrontavo con ciò che magari lui aveva vissuto durante la sua gioventù e questa è una delle tematiche che lo ha più colpito e che ha vissuto maggiormente, comunque avendo 18 anni era consapevole di ciò che stava accadendo in Italia. Allora Aldomo è stato segretario della democrazia cristiana, è stato presidente del Consiglio per circa cinque governi e che sono caratterizzati dall'apertura verso le sinistre, prima con il Partito Socialista durante gli anni Sessanta e poi verso il Partito Comunista Italiano negli anni Sessanta con il cosiddetto compromesso storico. Mio padre è stato sempre affascinato dalla figura di Aldo Moro, non a caso mi dice spesso che fu uno degli ultimi veri politici e statisti. Una mattina Moro si stava dirigendo in Parlamento per firmare la fiducia al governo Andreolte che si stava appunto per formare. La sua macchina però è stata anticipata dalle Brigate Rosse, i quali hanno ucciso tutta la sua scorta e lo hanno rapito e l'hanno tenuto in ostaggio per circa cinquantacinque giorni. Il giorno del rapimento di Moro le Brigate Rosse fecero di tutto per mettersi in contatto con le varie sedi dei giornali per far pubblicare appunto su tali giornali la notizia che Moro fosse stato rapito. Non a caso un altro scopo delle Brigate Rosse era proprio quello di scombussolare l'equilibrio della società democratica insomma. Mio padre mi disse che molti negozi e molti giornali chiusero per quella giornata, furono molto gli scioperanti sia lì a Roma ma mi disse che alcuni scioperarono anche qui nelle nostre zone insomma e mi disse che cominciarono ad andare in onda subito dei telegiornali appositi dedicati appunto alla faccenda del rapimento Moro. Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andrea Otti. Durante i vari 55 giorni di detenzione come abbiamo già detto le Brigate Rosse si misero più volte in contatto con i giornali per far pubblicare appunto varie immagini di Aldo Moro che veniva raffigurato sempre con il viso stampo, con il viso stremato da tutta questa situazione. La cosa che più ha colpito mio padre che indossava una tuta, appunto le Brigate Rosse l'avevano costrette ad indossare una tuta, l'avevano costretto a spogliarsi diciamo del suo vestito, della sua giacca, della sua cravatta e questo per mio padre significava proprio spogliarlo di tutte le sicurezze che la politica avrebbe potuto dare e avrebbe dovuto dare. Moro durante i 55 giorni di detenzione scrisse tantissime lettere che erano appunto dedicate alla moglie, a alcuni esponenti della politica, specialmente quelli della democrazia cristiana come per esempio Zaccagnini e appunto Andreotti. Scrisse al papa che era suo amico, scrisse alla moglie, alla famiglia, alcune di queste lettere furono recapitate, altre invece furono ritrovate dopo la sua morte appunto. Mio padre, quando parlavamo appunto di questa tematica abbastanza delicata, mi ha sempre parlato della morte di Moro come se fosse causa dello Stato. Non a caso non era sorpreso della spiegatezza delle Brigade Rosse perché si era consapevoli del gruppo appunto, della loro malvagità insomma, ma è rimasto sorpreso dallo Stato, dai democristiani che probabilmente agli occhi di Moro erano degli amici, oltre che dei colleghi insomma, che non hanno fatto appunto nulla per salvare il povero presidente. Non a caso mio padre mi ha sempre detto che se avesse avuto davanti Giulio Andreotti gli avrebbe detto se ci fosse stato tuo figlio lì al posto di Aldo Moro, probabilmente lui avrebbe fatto di tutto per salvarlo, cosa che non ha fatto con Aldo Moro. Appunto per questo mio padre sostiene che appunto lui sia una vittima politica e non una vittima delle Brigade Rosse. L'obiettivo, lo scopo delle Brigade Rosse era di entrare in contatto con lo Stato per cercare di far liberare alcuni esponenti delle Brigade Rosse, in cambio appunto della libertà di Aldo Moro, ma lo Stato non vuole entrare a compromessi con i brigandisti e quindi Aldo Moro fu lasciato al suo destino. Una delle ultime lettere che scrisse Aldo Moro era dedicata alla moglie e appunto in questa moglie, in questa ultima lettera citava, diciamo, le sue ultime parole ed era consapevole che ormai stava per arrivare la fine. Dopo 55 giorni Aldo Moro fu costretto ad entrare nel bagagliaio di una Renault rossa e mio padre mi disse che i brigatisti dissero a Moro di coprirti con una coperta e mentre appunto lui si stava coprendo lo spararono senza abisarlo, insomma. E mio padre mi disse che appunto lui fu ferito ad una mano, forse mentre appunto si copriva con la coperta. I brigantisti poi chiamarono la moglie e gli dissero che il corpo del presidente si trovava in un'arena rossa, nel bagaglia di un'arena rossa in via Fani. Dopo qualche tempo, dopo qualche indagine, scoprirono che alla fine il copo delle brigate rosse si trovava vicino alle sedi della democrazia cristiana e del partito comunista italiano.